Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale. Oggi non è più dicembre, quindi è il momento di girare questo video, un video che a me piace davvero tantissimo e che è i libri che ho letto nel mese di dicembre. Quindi io direi di iniziare subito, ho letto 5 libri, di cui 4 mi sono piaciuti, uno no, e vi dirò molto velocemente perché mi sono piaciuti, la trama, eccetera, eccetera, molto molto velocemente, perché in realtà volevo fare una recensione di tutti, però no, cioè, meglio fare una cosa del genere, quindi direi di iniziare subito con il primo libro, che ha un titolo troppo difficile, quindi lo leggo, e gli ippopotimi si sono lessati nelle loro vasche di Borogs e Curac, io dirò Curac perché dovete sapere che io ho dei disagi in testa, che se io leggo un nome la prima volta sbagliato lo continuerò a dire così e io ho sempre detto Curac, quindi per me è Curac, lo so, ma non importa. Sì, dalla copertina ci sono Dean Deanne e Daniel Radcliffe per un motivo, perché questo qui è il libro da cui è stato tratto il film Kill Your Darlings con Dean Deanne e Daniel Radcliffe. Il libro in realtà, da quello che ho letto anche su internet, da quello che ho letto dietro, sì, parla della stessa storia, solamente che il personaggio di Daniel Radcliffe, quindi Alan Gisberg che è il mio poeta preferito, lo amo, non appare nel libro e inoltre tutti i nomi sono stati cambiati, quindi non vedrete mai Lucien Carr, Jack Curac, eccetera, eccetera, ma ogni nome è cambiato. e la trama del libro parla di questo gruppo di amici, di ragazzi, ragazzi, oddio, uomini, adulti, insomma sui 25-26 anni, che vivono nella New York degli anni 40 tra bevute, sesso, omosessuali, tutte queste cose qui. E io devo dire che questo libro non lo consiglierei a tutti, perché io sono una grandissima fan della Big Generation, di questi due signorini qui, quindi di Alan Gisberg e di Lucien Carr. Lucien Carr io lo adoro, per quanto sia uno psicopatico, io lo adoro. Adoro la sua storia, adoro tutto. E secondo me, se questo libro lo leggesse una persona a caso, lo troverebbe alquanto, alquanto noioso, perché la vera azione parte nelle ultime 40 pagine, mentre la prima parte è tutta molto più lenta e dove non succede praticamente nulla. Però io l'ho trovata una lettura molto, molto bella, essendo anche una grande fan della Big Generation, appunto, e non lo so, io l'ho adorato, gli ho dato quattro stelle, l'ultima stella è mancata per, appunto, la lentezza iniziale. Però io lo considero davvero un bel libro, perché, appunto, è fan di questa generazione di questi personaggi, appunto, e io, come si... cioè, mentre lo stavo leggendo, ero tipo, ma perché non ci sono i nomi reali? Poi mi sono detta, vabbè, non importa, boh. E mi sono innamorata del personaggio di Philip, che poi, appunto, è Lucien Carr. Quindi si vede che il mio amore per Lucien Carr continua anche quando non so che è lui, di lui che si sta parlando. Il secondo libro che ho letto, un libro totalmente diverso, è un distopico ed è L'uomo in fuga di Stephen King o di Richard Beckman. Infatti Stephen King pubblicò questo libro con lo pseudonimo di Richard Beckman. E questo, penso sia l'unico distopico scritto da Stephen King, che non ne sono sicura, credo di sì, perché Stephen King ha potuto scrivere più che altro horror o quelle cose lì che a me non prendono particolarmente. No, aspettate, forse anche 22, 16, 60, quello è un distopico, non lo so, non mi ricordo. Comunque, L'uomo in fuga è bellissimo, cioè, veramente, è stupendo. L'uomo in fuga parla di quest'uomo che è povero, la sua figlia è malata di polmonite, credo, comunque di influenza. E, appunto, in questo mondo distopico, per guadagnare qualcosa, per guadagnare dei soldi, la gente si va a iscrivere a questi giochi della televisione, a questi reality show, e anche il nostro protagonista decide di partecipare a uno di questi reality show e lui viene preso, appunto, per L'uomo in fuga, dove L'uomo in fuga, appunto, deve nascondersi, correre, può andare dove vuole, basta che non venga preso dai cacciatori, che sono, appunto, quelli che poi lo prendono e lo uccidono. Questo libro è favoloso, io non avevo mai letto niente di Stephen King, è stata veramente una cosa fantastica, tutti lo consigliavano, io ero tipo, no, ma è Stephen King, a me non lo so, non mi diceva niente, non mi ispirava a pelle, invece è stato proprio un libro bellissimo, l'ho adorato dalla pagina 1 all'ultima pagina, è molto, molto ansiogeno, secondo me, molto... ti fa proprio salire l'ansia e, secondo me, ti fa proprio entrare dentro la prospettiva del libro, dentro il gioco, perché io stavo leggendo e se qualcuno mi interrompeva, allo tipo cosa, siamo tornati nel mondo reale, veramente, ti fa proprio entrare dentro il libro, quindi io lo consiglio davvero, davvero tantissimo e lo studio di scrittura di Stephen King è fantastico, il personaggio principale, lo adoro, adoro tutti di questo libro, è stupendo, veramente, veramente bellissimo, lo consiglio davvero tantissimo. Altro libro che ho letto, di cui avrei tantissimo da dire, ma meglio di no, è Shadowhunters, Città del Fuoco Celeste, di Cassandra Clerosi, è l'ultimo libro della saga di The Mortal Instrument, o Shadowhunters in italiano, e questo libro mi è piaciuto, molto, mi è piaciuto davvero molto, penso che sia uno dei libri di Shadowhunters che mi sia piaciuto di più, di The Mortal Instrument, però devo dire che, oltre ad essere infinitivamente lungo, per nessun motivo, perché alcune parti si potevano benissimo saltare, e passa l'ambulanza, grazie, devo dire che la prima parte di questo libro è particolarmente lenta, mentre quando inizia la seconda parte inizia ad essere un pochino più movimentato, e quindi sei lì attaccato al libro che non puoi staccarti ed è fantastico. Io ovviamente non posso derivare tramite questo libro, perché non so, magari c'è qualcuno che non ha letto ancora gli altri, è il capitolo conclusivo della saga, io semplicemente l'ho trovato fantastico, mi è piaciuto, il finale non mi è piaciuto per niente, mi aspettavo un finale un pochino più da cliffhanger, un finale un po' meno happy ending, qualcuno doveva morire, secondo me, qualcuno doveva rimanere come era alla fine, prima dell'epilogo, ma non importa, mi è piaciuto però il finale no, il finale proprio no, uno dei finali più brutti che io abbia mai letto, non brutto però deludente, un finale proprio deludente. Ultimi due libri, sul prossimo dico pochissimo perché non mi è piaciuto, ed è La piccola principessa di Frances Hodgson Burnett, io so che di questo libro c'è un film, io questo libro non l'ho finito perché volevo buttarlo fuori dalla finestra, io probabilmente se l'avessi letto da più piccola, probabilmente mi sarei piaciuto, perché comunque ha un qualcosa che vuole dire questo libro, però io l'ho trovato estremamente, estremamente noioso, la protagonista la volevo uccidere, una pagina sì e l'altra anche, i personaggi intorno non mi piacevano, la storia era banale, non l'ho trovato per niente bello, ci vuole perché dico che il libro non mi piace, quindi veramente, veramente non mi è piaciuto, non lo so, probabilmente appunto se l'avessi letto da piccola, probabilmente mi sarebbe anche piaciuto, perché ha comunque un messaggio che vuole dare di essere più gentili, di essere buoni, eccetera eccetera, le solite cose che vogliono dire i romanzi per bambini, però per me no. E l'ultimo libro che ho letto, che l'ho finito ieri sera, e ieri sera era da Capodanno, è un libro che ho amato, secondo me il mio preferito del mese di dicembre, che è, non so chi sei, ma io sono qui di Becky Aldertalli, questo libro è stupendo, in inglese si chiama Simon vs. Human Sapiens Agenda, e io ne avevo sentito parlare tantissimo, da booktuber stranieri, americani insomma, però ho sentito sia le recensioni negative, che le recensioni positive, io vi devo dire che questo libro, per me, mi ha ricordato un pochino, The Perks of Being a Wallflower, quindi Noi Siamo Infinito di Ciavoski, però allo stesso tempo, è un libro molto molto bello, il protagonista di questo libro è un ragazzo di nome Simon, che è gay, però non l'ha ancora detto a nessuno, e si scrive delle mail con questo altro ragazzo, che si chiama Blue, e all'inizio del libro c'è questo bulletto della scuola, che dice, ho visto le tue mail, so che sei gay, allora ti ricatto, se non fai questo per me, e quindi, inizia tutta la sua storia del ricatto di Simon con Martin, che è appunto questo bullo, il fatto che Simon voglia scoprire che è questo Blue, e io vi dico che, no, secondo me non lo capite fino a un certo punto del libro, non si capisce per niente chi è Blue, quindi è stata una cosa molto carina, che non fosse così scontato, e Simon e Blue sono carinissimi, sono la vita, sono una delle mie nuove OTP più grandi, perché sono veramente dolcissimi, e questo libro è molto molto bello, io lo consiglio a chi è appunto apprezzato, The Purpose of Being a Wallflower, che ha apprezzato anche magari Aristotele and Dante, perché a me piace, cioè ho visto tantissime similitudini anche tra Aristotele and Dante e questo libro, dal punto di vista di coppie interraziali, e queste cose qui, molto molto carina, e poi per la dolcezza della coppia, perché sono davvero davvero dolcissimi, e quindi io dico sia questo libro, chi ha detto che questo libro fa schifo in booktuber generale, non so perché, perché è mi piaciuto veramente tanto, penso che lo ricomprerò e lo rileggerò anche in inglese, perché la scrittura era molto semplice, quindi ve lo consiglio, leggetelo anche voi, così scleriamo su Simon e Blue qua sotto, io li scippo tanto, ve lo voglio dire, e quindi questi sono dei libri che ho letto, oddio, sono dei libri che ho letto questo mese, e niente, fatemi sapere se volete metterti alcuni di questi qua sotto, se volete sapere cose di più, sempre qua sotto, noi ci vediamo nel prossimo video, e bye!